La legge ho già vinto di sera, prego. Leo Manditello Planetario è una delle grandi discussioni, grandi trasformazioni che possono segnare anche la storia dell'impero continente. E poi c'è grande attenzione da parte del nostro paese, come il Grazio dice per il supporto che non fa mancare la reazione delle imprese. In Italia, sia in Comodo, sia in Spagna, sia in Cologna, dove abbiamo esperienze cinesi a confronto di tempo, dovremo fare una nuova campagna, devo dire che come per quelle campagne sono i miei progetti di attivarci, per esempio, che abbiamo fatto un'immunitazione di questa stagione e in realtà dovrebbero convendere sul tema di innovazione e di attenzione. Abbiamo colinato quale sarà il risultato del mio intervento rispetto ai progetti che il NUR ha messo in campo nel primo anno sul tema importantissimo, l'evoluzione e l'esplazionismo. Questa vedete, Goccianni ha portato un totale e massimo di investimenti, ma è un piatto e tre, quindi la richiesta di cercare è molto forte. Vi vorrei anche portare i risultati, le presentazioni di teoria giustizia, da parte della campagna che c'è un'immagine di teoria giustizia. Grazie. 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 Tecnologia. Il distretto sui materiali è un distretto che ha buone applicazioni nel settore dell'espaziale, del navale, dell'automotive, del biomedical, dell'elettronica polimedica, delle soluzioni, quindi ha una capacità di poter trasferire know-how e tecnologie in vari soluzioni. Dottor Mortuscello, quali sono i programmi della regione per l'incentivazione alle imprese? La regione sta lavorando su tutti i settori produttivi della regione Campania per valorizzare e incentivarli. Abbiamo un contratto di programma di nuova generazione di 150 milioni di euro che va a implementare le attività di automotive e aerospazio. Abbiamo fatto ripartire i vecchi contratti di programma che stanno trovando la firma e quindi la loro realizzazione in questi giorni. Abbiamo già firmato con Ferrarelle e Condoria e abbiamo programmato la firma di altri 8 contratti di programma entro il 31-12. Stiamo assistendo ai ministri in Campania, a breve presenteremo un format nel quale offriamo a chi vuole ministri in Campania incentivi e semplificazione amministrativa. Grazie a tutti.